Bella raga dal vostro grande capitano Napoli e benvenuti in questo nuovo video e sempre forza Napoli oggi il 2 settembre chiude il calcio a mercato chiude alle ore 22 e stasera dalle ore 21 farò la live dell'ultima ora di calcio a mercato quindi in diretta vi dirò cosa è successo oggi cosa sta succedendo dell'ultima ora di mercato se ci saranno delle squadre di serie A qualche colpo a sorpresa veramente last minute e farò un breve riassunto del calcio a mercato risponderò nel limite possibile a qualche vostra domanda mi fa molto piacere che siete in tantissimi che mi fate domande e nei giorni successivi probabilmente ogni video a parte il Napoli che farò solo un video sul voto del mercato del Napoli successivamente nei giorni che verranno farò un video dove raggrupperò due o tre squadre dove darò il voto ad ogni squadra di serie A quindi vi aspetto stasera numerosissimi alla live dalle ore 21 alle ore 22 dell'ultima ora di questo calcio a mercato mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale stasera vi aspetto numerosissimi per l'ultima ora di calcio a mercato vi aspetta stasera il vostro grande capitano Napoli ciao a io vi aspetta stasera il vostro grande capitano